Benvenuti nel tutorial per l'installazione dell'XOD. L'XOD è un rilevatore di apertura e di sicurezza per porte scorrevoli automatiche che combina la tecnologia radar con quella ad infrarossi. Preparare innanzitutto gli attrezzi che serviranno per l'installazione del rilevatore. Tutti gli elementi richiesti per l'installazione sono indicati nel riquadro. Prima di installare il rilevatore, leggere con attenzione la guida utente. Per iniziare, togliere la cover facendo leva con un cacciavite per avere accesso al rilevatore e ai suoi componenti. L'antenna radar, la tenda a infrarossi, lo schermo LCD, la regolazione dell'inclinazione della tenda a infrarossi, la rutellina di regolazione e i cablaggi. Prima di montare il rilevatore, posizionare la dima di montaggio al telaio della porta, senza fissarla, a una distanza massima di 5 cm dal bordo del profilo. Verificare che la linea verticale sia allineata con il battente di chiusura della porta. Forare due buchi per le viti di fissaggio. Scegliere tra l'indicazione inferiore o quella superiore. Forare un buco con un diametro massimo di 12 mm per far passare il cavo. Posizionare la base dell'ixio sulla porta e serrare le viti per fissare saldamente il rilevatore al telaio della porta. Per le installazioni su porte standard, seguite il seguente schema elettrico. Per le installazioni su uscite di emergenza, collegate i fili giallo e bianco o giallo nero e bianco nero all'entrata di apertura secondo l'operatore. Inserire il connettore bianco nella spina bianca. Ora lo schermo LCD è attivo. Formare un cerchio con i fili per evitare la formazione di umidità nel rilevatore. Uscire dal campo di rilevazione perché, una volta acceso, il rilevatore lancia un'impostazione automatica e crea un'immagine di riferimento. Quando è attivo, lo schermo LCD visualizza lo stato di uscita della rilevazione radar e a infrarossi. In caso di rilevazione, l'uscita è evidenziata in nero. Lo stato di rilevazione è indicato anche da un segnale LED. Il LED verde indica che è stato rilevato un movimento, mentre quello rosso indica che è stata rilevata una presenza nel campo di sicurezza. Premere il pulsante grigio per scegliere tra una delle diverse lingue disponibili e premerlo nuovamente per confermare la selezione. Due pressioni brevi sul pulsante grigio attivano gli spot visibili sul pavimento. Misurare la distanza tra la porta e gli spot, che rappresentano la tenda interna del campo di sicurezza. Ruotando la rotellina di regolazione rossa con un cacciavite a stella o con la mano, le tende a infrarossi si avvicinano o si allontanano dalla porta. Rispettare la conformità agli standard regionali. Una volta posizionate correttamente le tende, lanciare una nuova calibrazione. Uscire dal campo di rilevazione mentre il rilevatore scatta una nuova immagine di riferimento. In caso di uscite di emergenza, accedere al menu LCD per regolare il parametro di uscita del radar in base all'operatore porta utilizzato. L'inclinazione del campo di apertura è regolabile inclinando l'antenna radar verso l'alto o il basso o ruotandola lateralmente. Cambiando antenna è possibile modificare la larghezza del campo di rilevazione. Utilizzare l'antenna a 3 patch per un campo più ampio e quella a 6 patch per un campo più ristretto. Buono a sapersi! Per cambiare antenna, togliere la cover nera, scambiare le antenne e rimettere la cover. Ora l'installazione di base è terminata ed è possibile chiudere il rilevatore rimontando la cover. Per finire, verificare sempre il corretto funzionamento dell'installazione prima di lasciare i locali. Per ulteriori regolazioni del rilevatore, togliere la cover con un cacciavite. Il menu LCD presenta tre livelli, base, avanzato e diagnostico. Il primo menu consente di regolare l'immunità infrarossi in base all'altezza di montaggio e all'ambiente. Quando il sensore è installato ad altezze inferiori a 2,8 metri, scegliere il valore 2 per porte interne e il valore 3 per porte esterne. Per installazioni ad altezze superiori a 2,8 metri, scegliere rispettivamente il valore 6 o 7. L'Ixio può essere montato fino a 3,5 metri di altezza per ottemperare alle normative regionali. Il parametro frequenza infrarossi è utile quando i rilevatori sono installati uno accanto all'altro o in sicurezza laterale. Per evitare interferenze tra i rilevatori, fare in modo che non ci siano sovrapposizioni tra le tende e selezionare una frequenza diversa per ciascun rilevatore. In caso di porte strette ad alta singola o di sicurezza laterale, adattare la larghezza delle tende di sicurezza. Per fare ciò, scegliere la larghezza desiderata tramite schermo LCD e regolare di conseguenza la posizione della freccia. Verificare che la larghezza di apertura della porta sia completamente coperta. Confermare sempre la posizione premendo il pulsante grigio. La modalità di assistenza disattiva il campo di sicurezza per 15 minuti, il che può risultare utile durante gli interventi di manutenzione. Se è il caso, adattare le dimensioni dal campo radar tramite il menu LCD. Anche in questo caso, confermare sempre la selezione. Al posto delle regolazioni manuali è possibile scegliere una delle tre preimpostazioni disponibili per adattare rapidamente il rilevatore all'applicazione. Ambiente standard, critico per una migliore immunità ai cambiamenti ambientali o marciapiede stretto per le strade più strette con traffico pedonale trasversale. Per ulteriori informazioni sulle altre regolazioni possibili, vedere la guida d'uso. Nel menu diagnostico, selezionare Zip Code. Con l'app mobile BEA Decoder potete visualizzare rapidamente la configurazione attuale del rilevatore direttamente sul vostro smartphone. Una volta inserito il codice, viene visualizzata una panoramica di tutti i valori selezionati. Scattare una foto del codice come riferimento. Potete scaricare l'app BEA Decoder gratuitamente sull'App Store o su Google Play. Al termine dell'installazione, chiudere il rilevatore e verificarne il buon funzionamento. Per fare ciò, verificare di essere rilevati sulla soglia della porta mentre si rimane fermi per almeno cinque secondi. Grazie per aver guardato il nostro tutorial. Potete seguirci su Linkedin e iscrivervi al nostro canale YouTube per restare aggiornati. Grazie. Tar ato batti. Quasi CHECONASS. La situazione. Laitoria. Grazie a tutti. Grazie a tutti